Arte Vetro, via nazionale a Pianconio, vicino al municipio, telefono 0364 36 09 29. Produzione artigianale di vetrate artistiche, specchi, oggettistica varia, articoli da regalo bomboniere. Gli oggetti sono creati totalmente a mano con inserto di componenti in oro, argento e minerali allo stato naturale. Arte Vetro, via nazionale a Pianconio, vicino al municipio, telefono 0364 36 09 29. Arte Vetro, via nazionale a Pianconio, vicino al municipio, telefono a Pianconio. Arte Vetro, via nazionale a Pianconio, vicino al municipio, telefono a Pianconio, vicino al municipio, telefono a Pianconio.